eccoci pronti amici per la nostra rassegna stampa su fano tv oggi mercoledì 12 ottobre 2000 e 24 ottobre una data fatidica per quanto riguarda i ricordi scolastici ebbene vediamo subito l'almanacco del giorno è il prodromo un po della nostra rassegna stampa vediamo poi quali saranno le notizie del giorno vediamo come oggi si festeggia un santo dei giorni nostri un ragazzo si tratta di carlo acutis dichiarato beato nacque a londra nel 1991 da genitori milanesi ebbene pensate ricevete l'equarestia a sette anni ritenuto idoneo da monsignor pasquale macchi visse profondamente la fede cristiana da spingere addirittura il collaboratore domestico della famiglia che era un induista a convertirsi al cristianesimo morì però a 15 anni colpito da una leucemia fulminante e in tutta questa sua breve vita visse intensamente il suo rapporto con Gesù ed ora detto questo passiamo alle previsioni del tempo una giornata caratterizzata da una generale stabilità sulle marche vediamo che il tempo un po migliora rispetto alla giornata di ieri vediamo che il cielo sarà un po sereno un po velato da qualche nubi più nubi comunque in serata le temperature massime si spingerà si spingeranno fino a 22 gradi le minime scenderanno a 15 gradi i venti spireranno con una tensione debole da ovest sulle coste mentre da est sull'interno le temperature sono ancora in calo e il mare è mosso ebbene queste le previsioni del tempo diamo anche un'occhiata visiva al risveglio della città di fano in piazza 20 settembre dove già sono pronte le bancarelle pronte ad accogliere il pubblico e i consumatori al mercato del mercoledì vedete ancora come i lampioni sono accesi il tempo è un po offuscato quindi la luminosità è scarsa comunque tra breve quella piazza si animerà di un forte pubblico anche perché sarà una giornata tutto sommato bella ed ora ci ho detto apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo l'apertura si parla di terme di carignano perché si parla di terme di carignano perché c'è stato uno sviluppo non ancora decisivo ma uno sviluppo per quanto riguarda la convocazione di quell'incontro che il sindaco insieme all'amministrazione delle nuove terme alla proprietà delle nuove terne hanno così ideato per presentare il progetto nuove terme di carignano finalmente arriva la presentazione dopo una lunga attesa il progetto sarà svelato agli stati generati generali del turismo ancora però non c'è la data di questo incontro sarà sicuramente organizzato entro la fine del mese e di solito gli stati generali del turismo si tengono nella sala verdi il sindaco era un po rimasto così indeciso per individuare una sede idonea per presentare il progetto delle terme ma non c'è molto da scegliere la sala verdi il teatro della fortuna alla sala della fondazione carifano sono questi un po i centri capienti per quanto riguarda la presentazione dei progetti e gli incontri con la cittadinanza intanto il comune ha bisogno di soldi ha bisogno di soldi e quindi procede alle alienazioni patrimoniali e la comune di fano è un ricco proprietario terriero ne aveva ereditati tanti di terreni agricoli quando gli irab e le eca insomma gli enti di assistenza erano stati soppressi circa mille eteri poi mano a mano questi terreni sono stati venduti perché il comune non è che la possibilità di coltivarli e qualche volta gli ha dati in affitto altre volte appunto gli ha venduti e questa volta il lo stralcio che viene messo a gara comprende 11 fondi 11 fondi alcuni con delle abitazioni agricole altri invece solo con dei terreni per un milione 228 670 euro questo è un po l'importo globale di tutti gli 11 ebbene tra breve saranno comunicate anche le date entro cui presentare le domande giriamo la pagina sempre restando su fano e vediamo come gli ambientalisti ora si rivolgono al nuovo assessore all'ambiente cora fattori che ha ricevuto questa delega da barbara brunori dal verde alla differenziata tutto ciò che non funziona la lupus scrive alla fattori ambiente dimenticato e territorio consumato ebbene c'è ancora molto da fare nonostante che sia stato fatto qualcosa durante gli anni scorsi ebbene gli ambientalisti dicono alla nuova al nuovo assessore di accelerare i tempi per trovare quei 60 mila euro necessari per dare l'incarico ad un professionista per il censimento del verde urbano un progetto che è rimasto nel cassetto ed è rimasto nel cassetto anche il regolamento sul verde che da un anno e mezzo non viene più rispolverato e quindi occorre fare anche questo regolamento e poi c'è la raccolta differenziata che ferma al palo da oltre tre anni anzi addirittura sembra che sia in leggera diminuzione fano aveva raggiunto dei traguardi lusignieri per quanto riguarda la raccolta differenziata ma se ma se questa non viene vivacizzata non viene portata al passo di tempi vi ho detto quello che pesa lo sta facendo nei giorni scorsi in un in una zona delimitata del centro storico con i cassonetti intelligenti ebbene anche fano rischia di soffrire e quindi c'è ancora molto da fare anche nel settore dell'ambiente strade tasse pnrr priorità per puntare allo sviluppo è una richiesta della cna che ieri ha incontrato la giunta fanese e ha così cercato di animare di spingere la giunta a risolvere determinati problemi primo tra tutti quello della burocrazia una burocrazia ancora elefantiaca che richiede tempi lunghi che non si intona con le esigenze delle aziende per quanto riguarda lo sviluppo delle loro attività ebbene è stato posto l'accento durante questo incontro sulla strada delle barche un progetto che è stato rispolverato ed ora si cerca di attuare ma occorre un decisionismo più spinto e poi anche il ruolo strategico che l'amministrazione intende fornire alla marina dei cesari anche questo un comparto che si intona con quello della cantieristica e in questo momento vive momenti difficili la cna poi dicevo ha richiesto di favorire soprattutto il settore dell'urbanistica per quanto riguarda la semplificazione la digitalizzazione relativa alle pratiche e il dimezzamento dei tempi di attesa per le autorizzazioni che ancora insomma subiscono tempi lunghi ed ora vediamo invece quello che riguarda la solidarietà sembra strano ma stanno scasseggiando pasta e latte e insomma l'aumento dei beni di generi alimentari i beni di prima necessità non soltanto danneggiano le famiglie che sono in difficoltà ma danneggiano anche gli enti benefici che aiutano le famiglie perché non riescono più a trovare quelle quantità necessarie di questi beni primari per aiutare i loro assistiti scarseggiano pasta e latte aiuti alimentari in difficoltà tutta la filiera della solidarietà in crisi per l'insostenibile aumento dei prezzi e il carovita soprattutto l'aumento delle derate alimentari pone in difficoltà non soltanto le famiglie più fragili ma anche gli enti benefici che si prestano ad aiutare coloro che non arrivano alla fine del mese un esempio eclatante viene evidenziato oggi sulle Corriere per quanto accade alla Caritas Parlocchiale di San Pio Decipo un'istituzione benefica che si occupa di una quarantina di famiglie alle quali periodicamente fornisce un pacco alimentari ebbene la stessa Caritas Parlocchiale si trova in difficoltà perché il banco alimentare ha diminuito la fornitura di latte e pasta insomma però comunque c'è anche un dobbiamo dire un concorso di aiuti da parte dei commercianti della cittadinanza del quartiere del poderino abbiamo i supermercati abbiamo le macellerie abbiamo diverse istituzioni che col conto in sospeso oppure con la fornitura di quegli alimenti che non vengono venduti alla fine della giornata aiutano le famiglie più poveri un articolo da leggere per riflettere su quello che oggi comporta il caro vita passiamo ora alla pagina della Val Cesano parliamo di Cantiano che è la località più colpita dalla tempesta del settembre scorso e vediamo come anche le Proloco si mobilitano per aiutare le popolazioni più colpite l'UMPLI lancia una raccolta di fondi per aiutare le imprese di Cantiano unendo le forze dell'associazionismo e delle attività commerciali è stato detto appunto da l'UMPLI possiamo sostenere concretamente i borghi nella loro rinascita per non far morire i centri storici ricchi di storia che hanno bisogno di tornare a vivere e anche gli eventi anche le manifestazioni possono concorrere non solo per raccogliere fondi ma anche per ridare quello spirito di vivacità di vitalità che si è sopito dopo il tremendo disastro che si è verificato durante l'alluvione e quindi la demoralizzazione della gente che ha subito ingenti danni ed ora passiamo alla pagina di Senigallia vediamo come è stato considerevole la spesa che il comune ha dovuto sostenere per ripulire la città da tutto il fango che ha ricoperto strade scantinati abitazioni vie insomma una tragedia di cui i giornali hanno dato ampia notizia nei giorni scorsi il comune ha speso 7 milioni per le polizie e i moduli dei rimborsi ancora non ci sono sono state comunque raccolte le prime 100 firme di adesione ad un comitato spontaneo a cui aderirà anche pianello di ostra ebbene lunedì sera a borgo bicchia sono state raccolte intanto le prime 100 firme di adesione ad un comitato spontaneo si tratta di un comitato che cercherà di operare in questo senso cremito il circolo argi per la seconda volta con gente rimasta in piedi fuori ad ascoltare i relatori in merito a questo argomento poi vediamo anche un articolo che riguarda montemarciano ebbene i carabinieri hanno scoperto una coppia che si dedicava alla vendita di droga droga sul terrazzo è un'auto rubata fidanzati pusher scoperti e arrestati hanno scoperto i carabinieri un netto di ascisi in casa parte era occultata in camere in camera da letto parte era nel terrazzo in manette una cameriera è un imprenditore edile ed ora apriamo il giornale sulla pagina regionale purtroppo qui vediamo il lutto che si è verificato ancora per quanto riguarda un femminicidio sembra che questi delitti non debbano mai cessare nonostante l'opera di sensibilizzazione che costantemente viene attuata in tutti gli aspetti della vita civile dalle scuole ai luoghi di lavoro agli incontri sociali che vengono organizzati massacrata di botte davanti alle bambine è stata uccisa così Ilaria Mai Maiorano 41 anni è stata uccisa in casa dal marito dopo una lite si tratta di un marocchino si chiama El Gadassi che era addirittura detenuto in domicilio è stato fermato dai carabinieri è caduta dalle scale ha confessato quest'ultimo ha cercato di ribaltare la frittata ha detto e ripetuto il marito Taric alla parente che è arrivata quando ormai il dramma era compiuto è stato un incidente si è giustificato e così ha ripetuto ai carabinieri che lo hanno portato subito in caserma subodorando che insomma la confessione dell'uomo non si intonava con quello che appariva nel luogo del delitto ieri sera al termine dell'interrogatorio il PM Daniela Paci ha proceduto con il fermo l'accusa è di omicidio volontario aggravato ed El Gadassi è stato trasferito nel carcere di Montacuto il brutto è che brutto ovviamente il brutto è l'assassinio della donna ma anche è brutto il fatto che sia avvenuto davanti alle bambine le figlie appunto di Laria Maiorano una di otto una di cinque anni e sono bambine che capiscono quello che sta avvenendo davanti ai loro occhi una parente le ha scoperte al mattino dopo che non erano andati a scuola ed erano lì ancora a casa il marito invece era accanto alla moglie che era morta isolata nel casolare di roccato protetta solo dai genitori di lui è una seconda pagina che il Corriere dedica a questo delitto la relazione pericolosa con il marocchino con i precedenti ed è stata una vita complicata quella di Lario Maiorano che ha vissuto con quest'uomo un uomo violento un uomo che aveva anche dei trascorsi i suoi parenti avevano cercato di demotivarla dall'unirsi a questo compagno però insomma le cose sono andate diversamente e l'epilogo è stato tragico e qui abbiamo invece una dichiarazione per quanto riguarda il delitto questa forma di delitto ne parla l'avvocato Roberta Montenova la denuncia è la strada per uscire dall'inferno la paura frena tante vittime di violenza questa donna Ilaria non si era mai rivolta a uno dei centri antiviolenza presenti nel territorio della provincia anche appunto Osimo ha questa situazione ebbene neppure quando nel settembre dello scorso anno lo sportello di donne giustizia aperto nella sua città ovvero Osimo e qui poteva chiedere aiuto per venire fuori da quell'inferno purtroppo non l'ha fatto e anche qui la paura frena tante vittime per uscire da questa spirale disastrosa giriamo le pagine della regione ci fremiamo su quella di pesaro per trovare ancora la polemica in merito al miralfiore questa volta parla l'amministrazione comunale ed è l'assessore belloni che reagisce alle proteste degli ambientalisti che hanno organizzato una manifestazione nello scorso nel corso del weekend ripuliremo il miralfiore ha detto belloni dal sottobosco e anche dei pusher la priorità è la sicurezza niente confronto con chi strumentalizza il parco comunque viene organizzata una operazione straordinaria la sicurezza comunque è la priorità azioni autorizzate regolari ripuliamo il sottobosco nessun taglio di piante e alberi con chi a cuore il parco si può discutere con chi è in malafede strumentalizza il miralfiore per fini politici nessun confronto ha detto papale papale l'assessore belloni e qua ancora un risvolto su questa vicenda va murata l'ex casa colonica un freno ai bivacchi notturni il comune chiederà alla proprietà dello stabile di chiudere gli accessi per evitare l'ingresso di estranei ed ora si parla di difesa della costa l'estate è finita però non è finita la stagione che poi potrebbe ripropo che poi si ripropone ovviamente il prossimo anno il comune non archivia la stagione dice il titolo sottomonte lavori alle scogliere l'assessore pozzi annuncia una serie di interventi contro l'erosione che partiranno a fine mese sono in procinto di partire i primi lavori appunto per la difesa della costa l'operazione riguarda cinque barriere inizierà entro la fine di ottobre si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria di massi presenti nel tratto compreso tra il civico 84 di strada delle marche e l'ultima concessione prima della spiaggia libera una prima importante risposta a contrasto del fenomeno di erosione che interessa il litorale sud della città ha dichiarato pozzi ed ora parliamo di influenza l'influenza che è un contraltare in questa stagione del covid abbiamo due situazioni epidemiche che ci coinvolgono e ci interessano influenza l'incognita delle dosi per le vaccinazioni in farmacia una partenza senza fretta tra comunali e private pieri presidente di aspas dice dal 18 sarà possibile vaccinarsi in via giolitti e in soria dunque una partenza pur a rilento ma è sempre una partenza con l'incognita delle richieste in arrivo per i vaccini contro il virus dell'influenza in farmacia la campagna si apre la settimana prossima martedì 18 ottobre e comprende anche le dosi anti covid le due somministrazioni in un'unica seduta è possibile farle sia in farmacia che negli hub istituiti appunto dall'area vasta 1 la vaccinazione è gratuita per tutti dai 18 anni in su sia nelle farmacie urbane e rurali sia pubbliche comunali sia private rappresenta un'alternativa agli ambulatori dei medici di base e dei pediatri e solo per il coronavirus anche agli hub vaccinali di pesaro nell'auditorium di marche multiservizi in via toscana di fano al centro ortofrutticolo del codma e di urbino al bocciodromo ci sono i tre centri in cui possibile vaccinarsi sia per in quanto riguarda il covid sia per quanto riguarda l'influenza ed è consigliabile farlo il bacino dell'influenza un po per tutti ma soprattutto per le persone dai 60 anni in su passiamo anche alle notizie di cronaca anzi a un'altra notizia di cronaca dove vediamo qui un caso piuttosto squallido a 70 anni a 70 anni una donna è costretta dall'ex amante a girare dei video erotici per le chat a giudizio un cinquantotenne che per sua sventura è stato colpito da ictus e sarà un perito a stabilire se può o meno sostenere un processo si tratta di un cinquantotenne che aveva adescato su internet una pesarese di 70 anni i due hanno avuto prima una lison così si esprime il corriere adriatico poi il rapporto era finito e l'uomo ha iniziato ad avere atteggiamenti intimidatori e aggressivi nei confronti della donna di questa età tanto da procurargli un forte ha stato di ansia e gli imponeva di girare dei video per autoerotismo pensate un po' quello che accadeva è un'altra notizia di cronaca invece qui si riferisce a un appello un appello di una figlia con una madre anziana che purtroppo è diventata disabile ha in difficoltà per quanto riguarda la demenza senile era prima ricoverata a Galantara ora viene dimessa dovrebbe andare in una casa di riposo ma la figlia con la sua famiglia non ha la possibilità di integrare la retta insomma c'è tutto un problema di assistenza che non è solo di questa persona il giornale lo rileva perché è una situazione di difficoltà che coinvolge tante altre famiglie chiudiamo il corriere adriatico vediamo cosa ci dice oggi il resto del Carlino il quale apre con un'azienda in difficoltà si tratta del gelatiere di via Cavour Raffano che chiude per i rincari energetici ebbene ha affisso un cartello nel suo negozio chiuso a causa di rincari energetici non voglio lavorare per rimetterci i soldi ha detto il gelatiere Filippo Bragadin il quale in merito all'aumento delle spese ha visto che la situazione diventava insostenibile e quindi non ha accettato di lavorare in rimessa Filippo Bragadin ha messo un cartello in vetrina potevo scrivere ferie ho voluto essere sincero ha dichiarato ma se la situazione migliora riparto ha detto Bragadin e poi vediamo che il resto del Carlino parla della nuova piscina che sta sorgendo nei pressi dell'aeroporto di Fano la nuova piscina arriva in primavera parla il segretario della fondazione Carifano, Rosati e sarà a prova di bolletta dice il segretario generale detta ai tempi entro l'anno i lavori saranno terminati per gli impianti un'impresa fornirà tutti i servizi necessari resta da fare il bando per trovare il gestore questo è un punto della situazione per quanto riguarda appunto la piscina ok per l'Arzilla allo studio di fattibilità ma il torrente va ripulito ora fate presto è l'appello che lancia il consigliere del Partito Democratico Enrico Fumante che ha presentato un suo intervento che verrà trattato nella seduta del Consiglio Comunale in programma per giovedì prossimo ovvero per domani bollette e contratti fissi intoccabili a me hanno tagliato due anni prima Marco Giglia titolare di due bar a San Lorenzo in campo a proposito delle dichiarazioni di era non è vero che si impegnano a mantenerli fino alla scadenza io sono stato liquidato ha detto con due email hanno giustificato la risoluzione anticipata ha detto l'imprenditore con l'instabilità dei mercati ma se i prezzi invece fossero calati che avrebbero fatto? ebbè è un interrogativo che al momento fa pensare e rimane ovviamente senza risposta a Urbino invece si parla della croce di Castaccolo che è stata amputata questo santuario questo bellissimo santuario moderno che è stato realizzato dalla genialità dell'architetto giapponese Yasuo Watanabe di Interstudio ebbene dopo lungo dopo una lunga elaborazione c'è qualcosa che manca ed è la croce la croce artistica che è stata fatta da Walter Valentini sulla sommità del campanile a 11 anni dalla decisione di modificare la scultura di Walter Valentini senza il consenso dell'autore gli urbinati chiedono il ripristino e su questa fotografia vedete la differenza che c'è tra quello che era e quello che dovrebbe essere l'intento di Don Elia Bellebono era di avere un edificio bellissimo che è stato in parte traviato così afferma la pagina di Urbino del resto del Carlino e voglio concludere la nostra rassegna stampa questa mattina con l'infermeria delle due squadre di calcio quella di Pesaro e quella di Fano visse Gavazzi si opera ma è subito in campo ieri il capitano ha ridotto la frattura al setto nasale e per quanto riguarda Fano vediamo che ci sono spiragli per riavere prima Padovani il direttore Danielli spera l'infortunio potrebbe rivelarsi meno grave del previsto presto un secondo accertamento e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 come sempre e per le notizie del giorno alle 20.30 sulle TG di Fano TV occhio alla notizia e questo è tutto per il momento a risentirci a rispondi